Per dare questo messaggio dobbiamo darne anche un altro ai giovani del nostro Paese che in massa parteciperanno a tutti gli uomini per dargli la speranza di un futuro migliore partendo dalla solidarietà che non deve lasciare escluso nessuno. E oggi anche i nostri giovani hanno bisogno di una solidarietà per la ricerca di un posto di lavoro che in questo Paese diventa sempre più complicato. Io mi auguro che sia un bellissimo concerto e che faccia riflettere tutti noi sulle questioni che abbiamo di fronte e sulla esigenza di avere una solidarietà con un Paese che cresce perché sennò gli egoismi continuano ad aumentare. Ringrazio ancora una volta tutti e buon primo maggio. Grazie segretario e c'è la parola al segretario confederale della CGL, Gianna Fragazzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Anch'io voglio ringraziare la RAI, il direttore Vianello, gli organizzatori, gli artisti che parteciperanno e la stampa che è qui questa mattina. Giustamente veniva ricordato lo slogan del concerto ma anche le tre parole che stanno come dire come sottotitolo lavoro, diritti, integrazione e da questo punto di vista io credo che il concerto possa costruire quel ponte sia con le iniziative che verranno messe in campo a partire dai comizi dei tre segretari generali a Pozzallo ma dalle tante iniziative che si terranno in Italia in quell'occasione che è un'occasione importante per ricordare appunto un tema che è anche un tema interno che è quello del lavoro. Giustamente come ricordava il segretario Barbagallo noi parliamo anche a quel quasi 43% di giovani che in questo paese non lavorano e anche attraverso la musica non voglio dare un messaggio di speranza come ve l'ha ricordato ma anche un po' di concretezza rispetto alle richieste che abbiamo fatto il governo sul versante dell'occupazione. Voglio segnalare sul tema dei diritti oltre alle cose che giustamente ricordava Barbagallo che non voglio ripercorrere, è chiaro che il significato altamente simbolico che vorremmo fosse traguardato all'interno del concerto dagli artisti che partecipano cioè quel messaggio di solidarietà a quelle migliaia, anzi centinaia di migliaia di donne e uomini che si stanno ammassando e si sono ammassate nelle coste libiche per poter traguardare anch'essi una speranza di una vita diversa e anche di un lavoro. Quindi questo messaggio è sicuramente importante ma è anche significativo un altro passaggio che sta in quel sottotitolo, il tema dei diritti. Perché Puzzallo, oltre che appunto per le vicende legate ai temi dell'immigrazione che drammaticamente in queste ore affrontiamo, ci ricorda anche un'altra vicenda che è quella del lavoro nero, del lavoro irregolare, dello sfruttamento. Voglio ricordare che esattamente nella provincia di Ragusa dove si è verificato, non si sono verificate una serie di bigori esodiche coinvolgevano delle donne rumene che venivano costrette a prostituirsi dai caporali e quindi come dire da questo punto di vista segna anche un nostro impegno su questo versante. Sono 3 milioni di lavoratori in questo paese che a vario titolo stanno in quell'area grigia o nera di lavoro irregolare. Grazie.